MISTER, 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 MISTER ! con calma con calma azione guarda il giorno del contratto eccolo eccolo Cristian vieni vieni sta qui guarda il giorno del contratto guarda Cristian alza il foglio alza il foglio alza il foglio il foglio il foglio Grazie. Avvicinati. Non crediamo a te, eh. Dai, eh. Dai, mister. Portaci avanti, mister. Altro che spalletti. Dai, mister. Mister. Mister, mi assunciamo. Papà. Dai, che ti dà pure il gioco, mister. Dai, che ti dà pure il gioco. Che ti dà pure il gioco? Che ti dà pure il gioco? Noi, Θa che tu ti dà pure. Siamoci. Non c'è un rapista. Si, noi. E, stai un sacro. Mister, mia ansura. Non c'è un sacro. Questa è un sacro. Non c'è un sacro. Chia un sacro. Chia un sacro. Chia un sacro. Chia un sacro. Ciao!